La Regione Toscana ha deliberato un avviso pubblico da oltre 2 milioni di euro per sostenere le attività del terzo settore in ambito sociale. L'avviso è rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri regionali. In questo periodo di emergenza coronavirus, ha spiegato l'assessore regionale al welfare Stefania Saccardi, il terzo settore è stato fortemente impegnato in varie attività di tipo sociale e lo sarà ancora almeno fino al 31 luglio 2020, data che dovrebbe porre fine all'emergenza così come stabilito dal Governo. Spetta a noi sostenere iniziative e progetti del volontariato toscano, da sempre in prima linea. La Regione ha destinato anche mezzo milione di euro a progetti per contenere gli effetti sociali dell'emergenza Covid, mettendo in campo altre risorse economiche per il terzo settore e assegnando al Banco Alimentare della Toscana 150 mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà socio-economica proprio per effetto dell'epidemia.